Ed un minuto più tardi, Giallorossi passano, ancora un'azione insistita dell'Angelana sulla sinistra, l'assist è di Marri per Gnagni, la cui conclusione è veramente velenosa per Andrea Rossi che ci mette la mano, però non riesce ad evitare che la palla entri lentamente in rete. Su palla proveniente di nuovo da calcio d'angolo, di testa Gnagni riporta in parità la partita, quindi 1-1 e siamo al 29esimo.